Ciao a tutti, oggi parleremo delle conseguenze che potrebbero verificarsi se Credit Suisse, una banca sistemica, dovesse fallire a livello mondiale. Credit Suisse è una delle banche più grandi e interconnesse al sistema finanziario globale, il che significa che il suo fallimento potrebbe avere gravi conseguenze sull'economia globale. Il fallimento di Credit Suisse potrebbe scatenare una crisi di fiducia nel sistema finanziario, poiché molte altre banche e istituzioni finanziarie sono coinvolte nelle sue operazioni e negli investimenti. Questo potrebbe portare a una catena di eventi che metterebbe in pericolo l'intero sistema economico globale. Inoltre, il fallimento di Credit Suisse potrebbe portare alla perdita di risparmi e investimenti di milioni di persone, oltre a causare perdite finanziarie significative per gli investitori istituzionali e i governi. Ciò potrebbe a sua volta ridurre la fiducia del pubblico nel sistema finanziario e portare a una diminuzione delle attività di prestito, che potrebbe frenare la crescita economica. Se Credit Suisse fosse già sull'orlo del fallimento, le istituzioni finanziarie e i governi potrebbero adottare diverse azioni per prevenire il collasso della banca e mitigare le conseguenze negative sull'economia globale. Ad esempio, le istituzioni finanziarie potrebbero cercare di rafforzare la posizione patrimoniale di Credit Suisse attraverso l'acquisto di azioni o l'offerta di prestiti. I governi potrebbero intervenire con interventi di salvataggio finanziati dai contribuenti, come accaduto durante la crisi finanziaria globale del 2008. Tuttavia, l'intervento di salvataggio da parte dei governi potrebbe essere politicamente impopolare e potrebbe portare a un'ondata di critiche e proteste. Inoltre, questo potrebbe creare un precedente per altre banche in difficoltà, aumentando il rischio di comportamenti imprudenti e di comportamenti rischiosi nel futuro. Grazie per aver guardato questo video sulla finanza e l'economia globale. Ci vediamo al prossimo appuntamento!